Ma è stata sicuramente una scelta difficile, più che altro il silenzio e la solidità per me ha significato molto, però insomma era finito un ciclo e ora se ne apre sicuramente un altro di importante. Ma è stata veramente una trattativa lampo perché avevo voglia di una nuova esperienza, però di una nuova esperienza importante. E Arezzo secondo me è la piazza ideale che ha voglia di calcio per fare il meglio possibile. Ma hai detto bene il progetto, qua ci sono idee importanti e sicuramente idee chiare. Quando mi sono seduto al tavolo con i direttori mi ha subito salutato all'occhio proprio la progettualità che ha questa società a partire comunque dalle strutture, dall'hotel dove si vive, dove si mangia, si sta molto bene. Ma io entro in un gruppo in punti di piedi perché è un gruppo molto affiatato, un gruppo che ha vinto un campionato importante, però mi sta facendo sentire importante, mi sta facendo sentire tutti i compagni nuovi importanti. La struttura è nuova e c'è tutto per far bene, tocca solo a noi. Sì, il mister è un quadro dei tre a piedi invertiti e le sue idee sono idee importanti, idee molto più positive. Adesso tocca a noi dimostrarle sul campo. No, io non so niente, io mi sto solo allenando e attendiamo comunque che la società sta lavorando. e noi aspettiamo chiunque dovesse arrivare a braccia aperta. Ma sicuramente la progettualità di verso l'età è un punto di partenza importante, quindi spero di ripagare questa fiducia facendo parlare del campo.